Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny 2 in questo nuovissimo video news in cui vi riporto come al solito le ultime novità direttamente dall'universo di Destiny e sebbene questa settimana non ce ne siano tantissime, considerando che comunque siamo nel vivo dell'evento di Halloween, è appena stata introdotta la segreta e ci stiamo adentrando in un periodo un pochino più tranquillo visto che tutti i grossi contenuti ormai sono stati rilasciati colgo anche l'occasione per darvi alcune notizie importanti e voglio dare la priorità proprio a queste, innanzitutto, soliti annunci di routine che vi riporto anche su Facebook, direttamente su Amp sono arrivati altri Funko esclusivi del New York Comic Con e oggi è il turno di Miss Marvel, col costume originale direttamente dalla sua prima apparizione, tra l'altro questa serie qui, quella delle prime apparizioni, è una che personalmente sto apprezzando molto e pian piano li sto anche recuperando tutti, comunque vi lascio tutte le info in descrizione e anche per quanto riguarda Pampling che tra parentesi vedo che state apprezzando davvero molto, non che mi aspettassi diversamente visto comunque tutte quelle magliette fighe che costituiscono ormai il mio vestiario e vi dico aspettatevi delle grosse novità per le prossime settimane, come al solito però il negozio è sempre disponibile, il mio sconto è sempre valido e lo trovate anch'esso in descrizione. Il grosso annuncio che volevo darvi riguarda la grossissima iniziativa di beneficenza indetta da Bungie che è iniziata il 29 ottobre e che ha durata di qualche settimana e che coinvolgerà diversi creator sparsi per tutto il mondo che sostanzialmente si imiteranno a streammare e nel mentre tutte le eventuali donazioni saranno destinate direttamente a quest'iniziativa e con questo video vi annuncio anche la mia personalissima partecipazione e potrete vedermi in diretta per ben 4 ore mercoledì 6 novembre dalle ore 12 alle ore 16 e il tutto avverrà direttamente sul mio canale, vedrete però tutti gli overlay del caso e tutte le donazioni andranno direttamente a quest'iniziativa e sono davvero molto felice di prendervi parte, condividerò con voi presto altre informazioni. Per il momento però inizio già ad anticiparvelo, per quanto riguarda invece le news di Destiny semplicemente volevo dirvi che martedì ricomincerà lo standardo di ferro per la seconda volta in questa stagione dell'intramontabile e sostanzialmente tutto è rimasto invariato, potremo continuare la nostra impresa acquisita durante la scorsa edizione o acquisita durante questa volta nel caso in cui non l'avessimo ancora incominciata e l'unico grosso cambiamento riguarda la gestione delle munizioni pesanti, che lo spawn iniziale sarà 60 secondi e non più a 45 e spawneranno ogni 2 minuti e non ogni minuto, tolto questo solito standardo di ferro. E con quest'ultimo punto ragazzi termina qui anche il video. Dunque io vi ringrazio per la vostra attenzione, spero il video sia stato di vostro interesse e vostro gradimento, vi aspetto in diretta al 6 novembre e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!